Come hanno vissuto le tue canzoni? Che brani hai presentato? Ho presentato, chiaramente ho cercato le canzoni quelle più, tra virgolette, musicali Vole di innamorarmi, Genova Blues, Manca le Donne di Modena o Sotto questo sole, Maschi contro femmine e loro mi dicevano, perché quando sono arrivato lì dico ma io come devo cantare in italiano, in inglese? e loro mi dicono, guarda che se tu canti in italiano e in inglese per noi non cambia nulla anche perché loro dicono, per noi l'italiano è una lingua musicale visto che l'opera è tutta in italiano, loro amano molto l'opera quindi per loro è normale sentire cantare in italiano e soprattutto chiaramente non hanno come noi l'America sulla testa quindi per loro certe cose che noi, Gesù Scala Superstar non sa neanche cosa sia o cose che per noi sono delle pietre miliari e quindi non hanno questa sudditanza chiaramente nei confronti degli Stati Uniti musicale e mi dicevano, è come se in Italia viene uno che canta in cinese e in giapponese a te cosa cambia? certo capisci che hanno la lingua orientale, basta l'importante è il suono e la cosa che mi hanno detto che di me li colpiva soprattutto il discorso melodico ma è la voce perché poi effettivamente anche noi sentiamo la musica straniera in questo modo quando tu senti un pezzo inglese o americano e poi lo vesti di quello che vuoi la prima cosa che ti arriva è la melodia della canzone e la voce di chi canta e ogni sera il concerto finiva con 9-10 bis veramente non sapevo più cosa cantare perché poi piano voce chiaramente l'ha anche limitato cioè certe canzoni non rendono solo con uno strumento alcune sì però è stata un'esperienza meravigliosa e che chiaramente ha un seguito perché nell'album che sto preparando perché adesso è uscito il singolo che sollevato chiaramente entro la fine dell'anno uscirà un album ci sarà un dueto con Sui Gianni un pezzo inedito quindi un pezzo nuovo e lui in questo momento mi ha scritto ancora l'altra sera che sta scrivendo la parte cinese la traduzione in cinese della parte che canterà lui ma sì è curioso perché nel 90 uscì appunto questa canzone che era un outsider completo eravamo dei giovani io avevo vinto il premio tempo loro avevano fatto Sanremo ci eravamo conosciuti perché non facciamo una cosa insieme e mi ricordo che è nato tutto in un pomeriggio io sono a Stemio sono andato a trovare loro a Carpi che loro erano tutti modenesi e mi fanno bere un litro di lambrusco io ero completamente ubriaco so che ci siamo messi al piano è nata sotto questo sole dopo una settimana Paolo Belli mi dice oh abbiamo fatto il provino del pezzo e io dico ma quale pezzo non me lo ricordo e devo dire che alla fine una cosa nata per gioco per scherzo addirittura le nostre carrile discografiche loro erano Emi al tempi io ero con la CGD che era la Warner addirittura non volevano fare questa operazione dicendo questa si può dire è una cazzata questa canzone questa canzone le ultime parole famose del presidente della Warner dell'epoca poi infatti poi dopo ci abbiamo scherzato per anni era questa canzone non funzionerà mai il disco nuovo sarà un disco molto per certi versi molto diverso dai miei precedenti anche se chiaramente poi c'è dentro la mia ironia il mio modo di essere proprio da un punto di vista strettamente sonoro un disco faccio il mio primo disco veramente rock a 50 anni a proposito parlare di Tess a proposito di contenuti tu ti sei sempre mosso molto bene tra canzoni molto di spessore e appunto sotto questo sole quindi canzoni molto leggere quali saranno i contenuti di questo nuovo album e anche di Sole Matto c'è di tutto Sole Matto in realtà è un viaggio all'interno di se stessi cercare un momento di pace in un mondo dove siamo circondati sempre da brutte cose uno si sveglia la mattina e già pensa a quanto deve pagare entro la fine del mese va a leggere le notizie e gli viene una depressione è un mondo che ti martella ti ricorda continuamente una volta dice ricordati che devi morire ricordati che devi pagare quindi la gente si sveglia già con angoscia dice allora dico voglio costruirmi tre minuti come un piccolo angolino di paradiso quando parti per le vacanze che in quel momento lì può venire giù il mondo può venire giù il governo può venire vai allora avevo questa voglia necessità per me di farmi un pezzo dove io ogni tanto me li faccio i pezzi così proprio per me mi faccio i pezzi autorilassanti più una terapia e quindi voglio farmi un pezzo dove quando la canto e la riascolto sono tranquillo e mi rilascio stai facendo venire voglia di ascoltare il brano mi rilascio mi mette positività perché ce n'è abbastanza poca in giro poi di positività quindi ho cercato e invece a livello di arrangiamento di suoni siamo cercati con l'arrangiatore abbiamo cercato di in questo pezzo fare una roba un po' all'inglese poi chiaramente col missaggio abbiamo un po' cambiato per le radio perché la musica inglese in Italia non è che passa così tanto spesso e volentieri cioè eravamo prendendo un'idea molto col play come tipo di sonorità poi chiaramente io le mie canzoni normalmente le inizio al pianoforte poi il pianoforte è un mezzo per scrivere la canzone e non sempre è nel brano nella registrazione è che io uso il pianoforte soprattutto per comporre poi chiaramente lo suono anche e canto però non è detto che le canzoni che scrivo poi il pianoforte ci deve essere per forza in tante infatti anche nei miei dischi precedenti non c'era le scrivo al piano ma penso alle chitarre allora grazie non vedo l'ora di ascoltare sole matto e tutta l'allegria e la positività che ne abbiamo bisogno quindi grazie a Francesco Baccini grazie a voi per averci portato queste storie e questa storia e questa positività cari amici sono Francesco Baccini non so se si vede se rimango impresso a quest'ora nella pellicola però un saluto a Fan Week da Francesco Baccini grazie a tutti